Verdetti già emessi, almeno in vetta nel gironelle di seconda categoria, due settimane dopo l'Aquila, anche l'Olmoponte ha conquistato con pieno merito la promozione anticipata in prima. Restano da definire dunque nelle ultime due gare del 7 e 14 aprile soltanto le questioni in coda. Il Montevarchi sta dimostrando dal canto suo con i fatti che intende onorare sino in fondo il campionato. Se ne ha avuta la riprova nella trasferta di Poppie nella quattordicesima vittoria consecutiva al Berliperi con l'Ostia. Uno stile che i Rosso-Blu vogliono mantenere anche a Pergine alla ripresa del torneo domenica prossima e nella partita casalinga di congedo con il Salutio. Al campo sportivo perginese si giocherà alle 15.30 con l'avvento dell'ora legale. In occasione della sfida i tifosi della Curva Farolfi hanno organizzato il pranzo della promozione al ristorante Il Calciatore al costo di 15 euro. Prenotazioni sino al 5 aprile al Bar Giglio. Sul fronte tecnico da segnalare l'assenza per squalifica tra i Rosso-Blu del centrocampista Nicolo Peri, appiedato per un turno. Nel frattempo la dirigenza Aquilotta sta già mettendo a punto i primi tasselli per il futuro, consapevole che nella serie superiore le difficoltà e la concorrenza aumenteranno. E a proposito sembra ormai scontato che Antonio Arcadio continuerà a guidare i valdarnessi dalla panchina. Di fatto la prosecuzione del rapporto con l'ex bomber di Montegliasi è stata valorata proprio dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal presidente Iannelli al termine dell'incontro con l'Ostia. Nelle prossime settimane insomma comincerà a materializzarsi l'Aquila edizione 2013-2014.